Musica E bella turca sulle bentornati in questo nuovissimo video Siamo qui finalmente tornati con la rush verso il drago Ebbene si ragazzi lo sto registrando subito dopo il video dell'altra volta Quindi non so come avete commentato Quindi lasciatemi un bel mi piace ragazzuoli E dagli così che si continua Quindi scrivetemi nei commenti dei consigli appunto Da poter fare per continuare appunto questa serie Quindi ditemi gli step cosa posso fare cosa devo migliorare E appunto i tre commenti migliori li leggerò all'inizio del video Siccome questo video appunto lo sto registrando subito dopo l'altro Leggerò poi i commenti nel terzo video quindi non vi preoccupate Allora come potete vedere Off camera ho diciamo fatto Ho tirato un po' avanti la terra Ho rialzato un pochino Ho fatto una chest dove ho buttato dentro tutta la roba E poi siccome il letto mi sembrava un po' opproprioso lasciarlo là dentro Ho iniziato a costruire un po' la casa degli zingari Ma come potete vedere molto zingara ancora Ho messo un po' di scalette la porta e ho scritto casa degli zingari E quindi tanta tanta roba va bene stiamo iniziando a farci anche una casetta direi che il massimo di casetta che possiamo farci è questa qui Quindi ci sviluppiamo una bella casetta piccolina così che possa aiutarci a fare appunto quello che ci serve e nient'altro Allora volevo farlo con voi questo quindi lo facciamo insieme Facciamo un bel piccone di ferro Perfetto Poi prendiamo la pietra che ci manca Quindi andiamo un po' in miniera adesso ragazzi E andiamo appunto ci inoltriamo all'interno di quella miniera che avete visto prima Volevo farmi il corsaletto in ferro però mi sa che non ho abbastanza ferro esattamente Quindi ci portiamo tutto dietro e procediamo Ci facciamo un bel po' di torce perché so che ci serviranno E ci facciamo il segno della croce E andiamo in guerra Perfetto Andiamo a vedere se Zeus No com'è che l'avevo chiamato Hercule Hercule Oh mio dio ragazzi Andiamo a vedere se c'è Hercule che è rimasto ancora lì Se non è rimasto lì Portacce sua ne troviamo un altro Cavallo bastardo Perfetto Andiamo a vedere spero di sì Dai e ti prego Sì A bello del zio come stai tutto bene Ti porterò poi qualcosa da mangiare prima possibile Non temere sì Non temere non temere Ah lì ci sta l'altro amico Hercule 2 Non vi preoccupate vi prenderò tutti prima o poi Non vi preoccupate Allora qui poi direi di fare una specie di ponticello Perché cavolicchio tutte le volte Vare blu splash splush splush Il grano è cresciuto nel frammentere Quindi senza stare troppo a perdere troppo tempo dietro a questo Raccogliamo al volo E procediamo Quindi coltiviamo ancora Perché il cibo ragazzi ci servirà tantissimo Perfetto Allora direi che qua lasciamo stare E andiamo direttamente in miniera Prendiamo un bel po' di cose Sì sto usando il ferro ragazzi Per fare più veloce E perché comunque come vedete In sta miniera ne abbiamo veramente in abbondanza Io direi di lasciare qui all'entrata Una bella fornace Dove già lasciamo a cuocere questi lingotti Perché non mi sembra una cattiva idea Direi di rimanere sul piano E vedere se c'è qualcosa Ma non c'è niente Quindi torniamo verso l'entrata Quindi dove avevamo trovato la grotta Qui troviamo altro carbonchio E ce lo prendiamo Ok ho preso tutto il carbone Ragazzi Ben 23 pezzi Ok me ne era cascato uno Provo ad andare verso l'alto Però comunque ci riporta in Oh Zio No 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 Mamma mia tua Mamma sua Mamma di egli Mamma di noi Ok Ok Non mi son portato l'arco Perché non mi sembrava una buona idea Non mi sono neanche fatto La spada Se cadiamo qua siamo morti eh Partiamo da questo presupposto Però Mettendo Oh Ehi 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 La madonna Ehi Ehi la madonna Sta cronando tutto Ragazzi Ci vogliono uccidere Ci vogliono seppellire vivi Non ci credo E dai Io regà Devo sempre cercarmi guai Non so perché Mamma mia Ok Ok siamo arrivati in fondo di questa grotta Ragazzi Altro ferro Tantissimo altro ferro Però Uno slime Bono 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 Allora lo ammazziamo subito Che ci da la speretta Ok l'abbiamo presa Perfetto Oh Dio No 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 Testami lontano Ragazzi dobbiamo fare un pezzo Almeno un pezzo d'armatura Perché sennò qui veramente siamo un po' nella merda Non mi vorrei perdere troppo Anche perché Oro Oro Bono Bono Possiamo farci le mele d'oro Ragazzi Tanta roba Ma raga ma dove sto andando Mamma mia Sto finendo anche Uuu I lapislazzuli Sì ma ci sta anche sto guio Lì è illuminato Spero Oh è lava Questo lo ammazziamo tranquillamente Oh è lava Abbiamo finito le d'orge Non ho più il legno Che palle Di solito Vicino alla lava Ci possono essere i diamanti Però qua c'è troppa lava raga Troppa Troppa lava Quindi direi Di prendere i lapislazzuli Sì prendiamoli tutti dai E ce ne torniamo a casa Già con questi possiamo volendo incantare il tutto Guardate c'è una freccia in testa C'è una mamma mia Mi hanno frecciato Torniamo a casetta Che ce ne stavamo Molto bene Il problema è dove è casetta raga Non mi ricordo più come si torna indietro Forse è di qua Ok cerchiamo di uscire da sta miniera Dovrei ritrovare Ecco la fornace Perfetto Perfetto Abbiamo ritrovato la via sicura Per casa ragazzi Allora innanzitutto ci mettiamo questi a cuocere Il ferro che abbiamo trovato E andiamo fuori a prendere un po' di cose buone Allora ci facciamo una bella chestplate Che non ci fa schifo E poi tanto abbiamo in abbondanza tutte queste cose Ci facciamo anche un po' di legna Che dovremmo avere qui E invece no Ok Con questa legna ci facciamo gli sticchetti Che ci facciamo Questa accetta meravigliosa Meravigliosissima accetta Con questa accetta ci prendiamo un bel po' di legna Che tanto qua abbiamo in abbondanza E non ci fa schifo Ok Allora io direi di tornare un attimo là sotto Perché volevo vedere bene alcune cose Quindi torniamo un attimo sotto E valutiamo un attimo la situazione Qua ci mettiamo il cibo Perfetto Perfetto Tra l'altro qui stava cuocendo il nostro ferro Ci facciamo una crafting table Che lasceremo qui A vita perennemente Ragazzi La lasciamo qua Marcire insieme a questo Perfetto Qua abbiamo fatto cuocere tutto Ci facciamo anche i gambali E il caschetto No Ci facciamo i piedini Dai E dai Volevo farmi la Potevo farmi la spada Ma ho lasciato perdere Perché non importa Ok Mi sembra che eravamo andati avanti di qua Per trovare la strada quella fregna E quindi proseguiamo No Piscio Lo so che sei piccolino Ma Ma che cavolo E di qua Qua si va Oh Tu madre Ragazzi Ci stanno i ragnetti brutti Che ogni tanto ti fanno prendere gli spaventi Ragazzi dove sono finito Mi sono perso No Non ci credo Non ci credo Far cadere Uh Lì ci sta già l'ossidiana volendo Diamanti Diamanti Ragazzi Diamanti Sì Sì Mettiamoci un attimo Qua a scavarli Speriamo di Già due Due Buono Buono Damene un altro Ti prego Tre Perfetto Abbiamo il piccone ragazzi Abbiamo il piccone Ora però dobbiamo tornare a casa in qualche modo Scaviamo un po' intorno Mamma mia che fortuna Ok abbiamo tre diamanti Quindi dobbiamo per forza tornare a casa Perché se no qui non ci credo Voglio vedere qui che c'è altra lava Se ci sono altri diamanti o altre cose utili Mortecci Oh No no troppa gente Troppa gente Per fortuna abbiamo l'armatura Che ci siamo fatti prima E ci difende Allora se chiudiamo l'acqua da lì Possiamo già farci il portale Nel prossimo episodio Regare Oh Di altri diamanti Tanta roba Tanta roba Regà a sto giro ci sta andando abbastanza bene Vi dico una cosa Se proprio non riusciamo a tornare a casa Usiamo la La strategia del pillar Cioè iniziamo a fare un pillar verso l'alto E cerchiamo di salire Ma non ci credo che c'era solo un diamante qui Dai Dimmi che ce n'è almeno un altro Qua facciamo spegnere un po' la lava Perfetto Non me ne puoi aver dato uno e basta Non fare lo zingaro Non puoi darmi solo un diamante Oh mio dio Ok ragazzi Siamo messi molto molto bene Concludiamo questo episodio con la creazione del nostro piccone Nel prossimo episodio già cerchiamo di costruire appunto il portale del nether O almeno ci proviamo Quindi facciamo questo bel piccone Ci facciamo anche una bella crafting table Lo facciamo proprio qua in miniera a rozzi Ok Facciamo il nostro bel piccone di diamante Eccolo qui Oh 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 Shabababada Ui Why you Perfetto Regasoli per me questo episodio si può concludere qua Con due frecce Anzi tre frecce piantate addosso Il piccone di diamante E tante belle cose Regasoli io vi ringrazio tantissimo per la visione Vi invito a lasciare un like, un bel commento Dove mi consigliate i prossimi step da fare E che dire noi ci becchiamo nel prossimo video Bye